Aronmi? Ah no, questo ho dimenticato! Ma il mio amico c'è? Eh, ma... No, raga, che cazzo sono ste musiche strane? Questa è la chiave rosa This is it, the things we have done have finally come back to bite us Oh, Dio mio, che paura! Testing sector Ma non è aperta la porta Dall'altra parte, ma dall'altra parte non ci posso andare, raga Ah, adesso si sono... Ah, si sono accese le frecce Si sono accese le frecce Allora Oh, questo è l'arancione, ragazzi The spider is real, questo è l'arancione, quindi questo è il polpo, mi sa Ok, attivata la porta, funziona E quindi questa è la... Sì, chi è? Ok Sì, si sento If you can hear what I'm saying, wave at any camera Ah, ah, ok Fatto, fatto, fatto Ok, praticamente questo qua è rimasto bloccato, serve la chiave blu per aprirlo, ma non abbiamo la chiave blu per aprirlo, quindi Oh, ciao! Ok, è arrivato Ok, allora, intanto facciamolo venire qua Meet the family Bisogna cliccare quelli giusti Le temperature Allora, I respect to punching from lowest to greatest Ok Sette Nove Dieci Dodici Che è questa? Ventidue Easy Gigi Ok, ho aperto la porta qui Oh Sì, devo cercare la carta blu Madonna, che paura È arrivata di botto Vediamo cosa c'è Dovrebbe esserci il tizio che voleva essere salvato Carta Oh, ma di che non mi fai spaventare, hai capito? Devo salire sopra Che è successo? Che è successo? Non ho capito niente Ma non c'è nessuno Da chi devo scappare che non c'è nessuno? Ma io non lo vedo Oddio Oddio, l'ho visto, l'ho visto L'ho visto Via, via Via, via, via Ma io sto correndo, giusto? Ma io sto correndo Fetti così non posso In teoria sì E lo so Siete sicuri che io debba correre già adesso? Vai, 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 vai Oh, porco Che affa, dov'è? Dov'è? It's ok to have your friend No, non è vero che non è buono Che io non abbia amici Sei miserabile come me No, tu sei miserabile, baffaculo Ah, qua C'è un fai If you read this Vada If you read this Se mi dai un tianpo Se non mi dai un tianpo un cellaio Bella, compà Your cake cards have been taken away Ah, è perché? Ti era scritto Leggi questo veloce Oh, l'ho letto Ci sono provato Martina, manco il tempo Ma dai Vai Oh Bravo Aiuto, non ci sto capendo nulla Di qua Vai Schiccia butto Mamma Colpo secco Bravo Hanno trascinato il tizio blu Raga, il tizio blu ha preso sangue Eh, vieni con me? Io salgo, eh Bello questa stanza Mi piace Tipo, tipica stanza Tipo, dei, dei, degli asili Dei bambini Raga, chi è quello? No, 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 no Cos'è un pisello? Oh, un pisello con gli occhi È una proboscide Ero viva Ho deciso di morire per toccare la proboscide Mi apra la stanza È caduta una palla Ah, no, è l'occhio È caduto l'occhio Cos'è? È una bella siringona Aha Senta, buonasera La posso... La infilo, eh? La infi... L'ho infilato vero Ho preso il sangue colorato Distraction before extraction Ok Come io lo infilo il drone nell'occhio Vai, vai Ok Manca il rosso Sì, sì, sì Quello rosso Ma secondo me ne manca un altro, raga No, ragazzi, ne manca uno Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove No, ne manca uno Sono otto E non ne manca uno E no, vedi che ne manca uno Ah, no Sì, ma dove lo tiro il... Il coso Dall'altro lato Qua Oh, attenzione È morto, raga L'ho ucciso, cazzo Dove sono? Ah, dove ero prima Si è aperta la porta, raga Oh, che bello È una stanza tutta colorata Vado, corro Come sopravvivere a un attacco di un gigante Stop quando hai gli occhi uniti Go quando hai gli occhi aperti Perché mi stai dicendo questa cosa? Raga, raga, raga Perché mi sta fissando? Salve Buonasera, possiamo... Oh, oh, oh Che cazzo vuoi? Che cazzo? Oh Ma è l'uccello Giuccia, cazzo Oh, bella Come va? Posso entrare? Sono nove studenti No, no Non so già fare le addizioni Sotto accendi Sì What is 6, 8, 7, 4, 1, 2, 3, 6, 1, 2, plus Sì, Jack sta laggando Twitch in generale Oh, che cazzo vuoi? È perché ho preso la calcolatrice e sei cazzata È perché ho preso la calcolatrice e sei cazzata Non lo faccio più Scusi, professoressa Minchia, c'è bisogno di fare... Aspetta Non era frog Hai visto che sono forte A dopo, prof È stata gentilissima Lei è... È una prof incredibile Sei Bella Sono diventata un cool guys Dice che non mi devo muovere Ma io mi muovo Oddio, 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 veloce Veloce Madonna, quanto è coglione questo bo... C'è il botto è coglione Oddio, oddio, oddio Non ti esiste Ok Oddio, oddio, oddio Capture the Beards Ragazzi? Venite Ragazzi Ma quanto dura sto gioco, scusate Oddio Bella, raga Tieni Uno Vai, 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 vai Vai Compatti, è venuta l'artrite così Vabbè Vai Ok Vai, signori Fatto Uh, la carta Grazie Oh, bello No, raga, non ho capito il concetto Allora, aspetta Aspettiamo Se n'è andata via Oh, salve Come... Ok, ho capito Ma così mi sembra un po' esagerato come morte Hello Mello, pare una fattona questa Secondo me, raga, non lo so Ok Rules of the cannon game Cannon, cannon must be fired at the lit buttons Only one cannon can be fired at a time Di prendere i fuochi d'artificio con i cannoni E io non posso sparare con i cannoni, raga No, babba, i fuochi d'articoli con i missili Ah, i missili Ok Poi Mh, è difficile però, eh Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Easy Eh, cosa abbiamo aperto? Che ho fatto? Oh, oh Raga, devo tornare di qua Perché di qua c'era la stanza azzurra Fatto 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 Luce Raga, mi sa che vado a letto E manca poco, Teddy Me l'avevi detto prima Secondo me non ha senso Fatto 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 Grazie a tutti.